Apertura della porta santa ieri pomeriggio nella chiesa San Sebastiano Martire nel quartiere Settevarini a Gera. Un momento assai significativo e partecipato che ha coinvolto numerosi fedeli. La porta è un importante simbolo, richiama il passo evangelico di San Giovanni. Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. L'apertura della porta è anche simbolo del cuore misericordioso di Dio dischiuso nel fianco aperto di Cristo sulla croce. Che il Signore non ci ha dimenticati e che il Signore ci offre sempre una possibilità che è quella del suo amore, della sua misericordia e della sua pace, di cui tutti ne abbiamo bisogno. E una porta aperta all'intera comunità giulese? Sicuramente, perché non è soltanto un vatto privato che appartiene solo a quello di Settevarini. E tutta la cittadinanza che deve partecipare, ma che viene coinvolta perché Settevarini non è steccata dalla città, è la città di Gela e fa parte della città di Gela. E come hanno accolto i residenti della zona all'apertura della porta santa? Sicuramente con tanta gioia, perché è sempre, dicevo, un momento di grazia e un'opportunità per fare delle verifiche personali e soprattutto interiori su come noi viviamo la nostra fede e che rapporto abbiamo con Lui. Subito dopo l'apertura, il Vescovo Rosario Gisana e tutti i fedeli hanno valcato la porta della misericordia. Essa evoca il passaggio che ogni cristiano è chiamato a compiere dal peccato alla grazia, confessando che Gesù Cristo è il Signore. Alla fine della cerimonia, il Vescovo ha preseduto la solenne celebrazione eucaristica con la benedizione ai presenti.